Da oggi, 15 ottobre, il Green Pass è obbligatorio per accedere al posto di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, e il responsabile del controllo della certificazione verde dei dipendenti è il datore di lavoro. La decisione presa dal governo ha creato numerose proteste in svariate città italiane. La Puglia, in controtendenza, non ha fatto registrare nessun particolare problema. A differenza di quanto accaduto a Trieste, infatti, nei cinque porti pugliesi di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi, è tutto regolare e non si sono registrati blocchi, proteste o disservizi. Negli scali regionali, infatti, la quasi totalità dei circa 70 dipendenti dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale è vaccinata. A questi si aggiungono anche moltissime altre categorie di operatori portuali, che hanno approfittato anche degli hub vaccinali creati nei porti per la somministrazione. Anche la circolazione di treni e autobus al servizio del gruppo Ferrovie dello Stato non ha subito nessun disagio. Stessa situazione anche per gli autobus Amtab, che garantiscono la circolazione nel capoluogo. Solo 4 o 5 dipendenti, ha spiegato il presidente Pierluigi Vulcano, non hanno fatto il vaccino e hanno fatto il tampone. Solo alla Bosch, azienda sita nella zona industriale di Bari, questa mattina c'è stato un sit-in di protesta a cui hanno partecipato solo una ventina di persone. Questo, ha detto il segretario Wilm Bari Riccardo Falcetta, mi fa ben sperare che anche i lavoratori indecisi si siano vaccinati. Il delegato FIOM CGL Bari Ciro D'Alessio ha messo in evidenza che da oggi per lavorare le operatori non vaccinati devono pagare il tampone e questo è inammissibile. Noi siamo per l'obbligo vaccinale, intanto però abbiamo fatto richiesta all'azienda di pagare i tamponi ai lavoratori, vaccinati e non, perché al di là dell'obbligo vaccinale il vero strumento per monitorare la circolazione del virus in azienda è il tampone a tappeto sui dipendenti. Per questo chiediamo che i tamponi siano continui e gratuiti per tutti.